La Delegazione di Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania incontra il Vescovo Monsignor Ciro Miniero per i tradizionali auguri natalizi. Anche quest'anno, come tutti gli anni, l'Azione Cattolica Diocesana si è recata in Curia per fare gli auguri al Vescovo. Sono auguri non formali ma veramente sentiti per esprimere il ringraziamento di tutta l'Associazione e di tutti gli aderenti al nostro pastore che ci ha accompagnato in questo triennio. Il suo aiuto è stato fondamentale per portare avanti il nostro cammino e incontrare altre associazioni e altre parrocchie. Il Vescovo è veramente tanto vicino anche al nostro centro per cui noi lo ringraziamo vivamente come ringraziamo tutti i nostri collaboratori che ci aiutano a lavorare con compassione, con amore e con dedizione, ad aiutare queste famiglie in difficoltà con bambini che noi aiutiamo a venire alla luce ma che poi nel percorso non abbandoniamo. Quindi li accompagniamo fino all'età di 6-7 anni.